ANSA? Roma? 28 dicembre, quest'anno oltre che di fine anno, questa conferenza ha anche un significato particolare? Io posso dire innanzitutto che ritengo importante aver raggiunto un obiettivo importante di questo governo. Quello di arrivare ad una conclusione ordinata della legislatura. Lo afferma il Premier Paolo Gentiloni nel corso della conferenza stampa di fine anno.